Il mio nome è Manfredi Rizza, Manfredi è il nome, Rizza è il cognome, ho 20 anni e sono uno studente alla facoltà di ingegneria e sono anche un atleta di canoa, faccio canoa. Io adesso ho un progetto importante, io vorrei cercare di arrivare alle Olimpiadi e mi sto allenando parecchio, sarebbe un po' il sogno che uno ha da bambino e riesce a realizzarlo, insomma, sarebbe davvero una gran cosa, tutta la mia vita, insomma, è quello che so fare, è quello che mi piace fare, è quello che voglio fare, il sogno più grande che ho è sicuramente andare alle Olimpiadi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.